bentornati a trame raccontate male oggi parliamo male di madama butterfly a livello di trama madama butterfly è l'opera forse più semplice della storia dell'opera infatti si può riassumere in sette parole lui la sposa e sparisce lei muore per dare però un minimo di soddisfazione librettisti raccontiamola male nella storia dell'opera in genere il tenore è quasi sempre una figura positiva mediamente ha più palle che cervello allora è lo cervello che ti ammanca ma forse ma non lo corre a piedi o a caballo no no caballo no a piedi e tenori con cui elevati non se ne riportano molti in letteratura tuttavia nel complesso è sempre un eroe positivo pinkerton invece il tenore di quest'opera ha dei contorni decisamente negativi fondamentalmente lo trovereste nella smorfia napoletana sotto il numero 71 giappone primi del novecento pinkerton un militare decisamente più fornito di ormoni che di scrupoli morali è un uomo navigato e non solo perché in marina e sa benissimo che a quei tempi il metodo anticoncezionale più efficace era non rilasciare le generalità siccome però è un romanticone invece che frequentare come qualunque marinaio di carriera sin dai tempi di ulisse postriboli e bordelli gli sembra un ideona quella di mettere su famiglia anche se sa benissimo che a breve taglierà la corda contatta quindi tale goro un tipo che è una via di mezzo tra un pappone e un wedding planner goro a un costo inferiore di una cena per due da cracco gli ha organizzato l'intero matrimonio casa e servitù inclusi con la giovane molto giovane ciocio san alias butterfly arriva sharpless ennesimo protagonista di un'opera lirica senza uno straccio di nome proprio sharpless è il console statunitense e a conoscenza dell'intenzione di pinkerton di partecipare a questo fake matrimonio e poi tornare in patria per farne uno vero con una connazionale cerca di pogli qualche minimo sindacale di dubbio morale ma senza troppa convinzione e con ancor meno risultati a un certo punto gli dice che questa leggerezza di comportamento fa la vita vaga ma entristisce il cor a me è quello di pinkerton non mi sembra un particolarmente tristito però goro già che lì propone anche a sharpless di accasarsi e gli dice che di belle ragazze ce ne ho un assortimento sharpless ringrazia ma declina in attesa della sposa pinkerton ci conferma che il motivo principale della pagliacciata che stanno per mettere in scena è ormonale e solo molto marginalmente sentimentale sharpless fa ancora un timido per la verità tentativo di far riflettere pinkerton sulle conseguenze di ciò che sta facendo ma quest'ultimo è talmente infoiato che ignora gli avvertimenti dell'amico arriva la sposa con tutto il seguito di damigelle parenti e personal shopper facciamo quindi la conoscenza di chocho san una ragazzina di 15 anni 15 che benché abbia già attraversato vicende personali che dovrebbero averla resa edotta dei pericoli del mondo è in realtà una creatura di un'ingenuità sconcertante che ci fa sembrare gida del rigoletto una mangiatrice di uomini sharpless si rende perfettamente conto di ciò che il suo testosteronico amico non vede oppure semplicemente non vuole vedere e cioè il fatto che la cerimonia per lui non ha alcun valore ma per chocho san è assolutamente vincolante legalmente e sentimentalmente suggerisce quindi nuova cautela pinkerton che in belle parole gli dice fondamentalmente di farsi il matrimonio viene quindi celebrato su base paritaria l'ufficiale lo celebra infatti per pinkerton per diritto della propria volontà mentre per chocho san per consenso dei parenti detto questo l'atto è regolare le conseguenze dell'atto matrimoniale per chocho san non sono solo legali ha deciso infatti in gran segreto di convertirsi a cristianesimo abbiorando la propria fede venuto a sapere lo zio bonzo la prende bene e le lancia addosso una compilation di insulti e maledizioni assortite dopodiché anche tutti i parenti la rinegano e vanno via prima del lancio del bouquet chocho san disperata piange ma pinkerton che è un'idea precisa di come la serata deve evolvere la consola e finalizza della sua statura morale ci viene data conferma quando lui in piena estasi ormonale dice pensare che quel giocattolo è mia moglie e ho detto tutto atto secondo sono passati tre anni e non ci credereste mai pinkerton ha tagliato la corda ed è tornato negli stati uniti come ultimo atto testimone di un livello etico alquanto discutibile ha promesso a chocho san che sarebbe ritornato un giorno i soldi stanno per finire e tutti tranne lei hanno mai capito che pinkerton non lo vedranno più la prima che cerca di persuaderla a prendere atto della situazione è la cameriera suzuki che ben sa che mai non si è udito di straniero marito che si è tornato al nido ma lei crede fermamente alla promessa sulla sabbia che l'ha fatto pinkerton e nella famosa aria un bel di vedremo ci sconforta con la sua ingenuità anche goro il pappone wedding planner cerca di convincere butterfly a risposarsi con altri pretendenti ma lei cocciuta e forse anche un po duro di comprendonio rifiuta l'ennesimo è tal yamadori che le promette amore e lussi butterfly non si convince forse anche per il fatto che yamadori ha divorziato più volte di liz taylor a questo ennesimo rifiuto assiste anche sharpless che porta a butterfly una comunicazione dello sciagurato pinkerton che ovviamente nei tre anni trascorsi si è guardato bene dallo scriverle però almeno un messaggino su whatsapp glielo poteva mandare pinkerton lo abbiamo capito ormai è pavido come il leone del mago di oz e siccome all'esame di assunzione delle proprie responsabilità è stato bocciato tre volte manda sharpless in avanza scoperta a fare quello che dovrebbe fare lui sharpless non senza difficoltà cerca di aprire gli occhi di butterfly al suo consiglio di accettare la proposta di yamadori a butterfly casca al mondo addosso e dice che piuttosto preferirebbe morire in tutto ciò si inserisce un dettaglio di cui fino adesso eravamo assolutamente all'oscuro butterfly ha avuto un figlio da pinkerton e questo ovviamente complica tutta la faccenda sharpless le promette che far sapere a pinkerton dell'esistenza dell'infante e va via la trama finora è filata via abbastanza dritta arriviamo quindi a una piccola e in fondo perdonabile incongruenza arriva in porto la nave su cui pinkerton era arrivato tre anni prima e butterfly è sicura che lui sia su quella nave ma in realtà non c'è nessun elemento che ce lo lasci di esumere sharpless al contrario gli ha detto chiaramente che fareste madama butterfly se non dovesse ritornare più mai suzuki inoltre ci fa sapere che sono tre anni che butterfly guarda tutte le navi che arrivano in porto e regolarmente ovviamente resta delusa non c'è quindi una valida ragione per cui questa volta lui dovrebbe effettivamente arrivare è vero che la nave è la stessa di tre anni prima ma gli equipaggi cambiano detto questo butterfly è assolutamente certa che pinkerton sia tornato lei e sozuki addobbano la casa per riceverlo degnamente perché se lo merita in effetti a sto giro pinkerton arriva e per darci ulteriore conferma che la pessima opinione che avevamo di lui era assolutamente fondata si presenta con kate la donna che ha sposato regolarmente in america certo a essere un po pignoli ci dovremmo domandare che cavolo ci faceva la moglie di pinkerton su una nave militare ma anche ammettendo che pinkerton potesse portarla con sé manco fosse una nave da crociera non dimentichiamo una cosa quando sono partiti nessuno di due aveva idea dell'esistenza del figlio di pinkerton e butterfly resta quindi da chiederci perché mai pinkerton avesse ritenuto di portare sua moglie kate nella stessa città in cui tempo prima aveva girato una povera ragazza non so ma non sembra una grande idea per far funzionare un matrimonio le donne su ste cose che non apprende no detto questo spezzare il cuore di butterfly evidentemente non basta i coniugi porteranno via con loro il figlio di butterfly pinkerton ovviamente pinkerton sovrastato dai sensi di colpa ma del tutto incapace di assumersi le proprie responsabilità fugge via e lascia gli sharpless e kate e io se fosse lei qualche dubbio sull'uomo che ho sposato me lo farei venire arriva butterfly prende coscienza della situazione per il bene del bambino decide di affidarlo alla coppia bene presunto con una madre rottiva di cui non sappiamo niente e con un papà come pinkerton dopodiché va dietro un paravento e si suicida ci vediamo la prossima trame raccontate male vi siete iscritti al canale io vi avviso se non ci saranno almeno 100 nuove iscrizioni smetto di fare le trame raccontate male fate vobis